Attivo dal 1980, è noto per i ruoli nei film Young Jans, Giovani Pistole, Samantha, I dannati di Hollywood, Il matrimonio del mio migliore amico, De La Stoutlo, a proposito di Schmidt, e I segreti di Osage County Malroney ha interpretato il principale antagonista nella serie NBC Crisis, Francis Gibson Malroney è nato ad Alexandria, Virginia. Sua madre, Ellen, era una casalinga ed un'attrice dilettante originaria di Manchester, Iowa, e suo padre, Michael Malroney, era un professore di legge alla Scuola di Giurisprudenza della Villanova University, originario di Elkader, Iowa Ha una sorella Moira e tre fratelli, Conor, Chiron e Sean Alcuni degli antenati di Malroney emigrarono dalla contea di Danigol e dalla contea di Nao in Irlanda durante la Grande Carestia Irlandese, è di sette ottavi irlandese ed un ottavo di ascendenza tedesca Malroney ha frequentato la Mori e la Mentary School ed ha suonato il violoncello nelle orchestre scolastiche e giovanili della città, oltre a recitare nel teatro della comunità per bambini Malroney ha frequentato l'Interlochen Arts Camp come violoncellista Successivamente ha frequentato la T.C. Williams High School e la Northwestern University a Evanston, Illinois, dove è stato membro della confraternita dei Phi Gamma Delta Debutta nel 1988 nel film di Blake Edwards Intrigo a Hollywood, seguito da Young Jans, Giovani Pistole e Da che mi dici di Willy Interprete di molti film tra cui Samantha, Il sorriso della vita, Nome in codice, Nina, remake americano di Nikita, Gli anni dei ricordi e si gira a Manhattan del 1995 Poi lavora a Kansas City del 1996 e nel 1997 raggiunge una certa popolarità grazie al film Il matrimonio del mio migliore amico con Julia Roberts Nel 2001 recita Nella sicurezza degli oggetti seguito da A proposito di Schmitt, nel 2005 è nel cast Della neve nel cuore con Sarah Jessica Parker Nel 2006 lavora con il regista David Fincher in Zodiac e con Gary Marshall nella commedia Donne, Regole e Tanti Guai Nel 2011 debutta alla regia con la commedia romantica Love, Wedding, Marriage, interpretata da Mandy Moore e Kellen Lutz Anche suo fratello Chiron è attore, dal 1990 al 2007 è stato sposato con l'attrice Catherine Keener, con la quale ha avuto un figlio di nome Clyde Nel 2004 si è legato alla produttrice Tarita Kutulle, figlia della cantante Amy Cessaroni, che ha sposato nel 2008 e dalla quale ha avuto due figlie, Mabel Rie e Sally June Malroni Nelle versioni in italiano dei suoi film, Dermat Malroni è stato doppiato da Grazie per l'attenzione Iscriviti al Calane